Beh, che Di Bana in questo momento è facilmente considerato il giocatore probabilmente più in condizione, sì, perché i numeri parlano nettamente a suo vantaggio, che sia un giocatore con grandissima qualità, sì, ma sarebbe un errore focalizzarsi solamente su un singolo giocatore, perché la Juventus ha tante altre armi a disposizione e soprattutto nella loro fase offensiva credo che dovremmo cercare di far arrivare meno palloni giocabili a questi giocatori molto forti in fase offensiva, quindi credo che le nostre situazioni di non possesso parla dovranno essere molto attenti e prendere delle posizioni che ci possono permettere di non far arrivare troppi palloni a questi giocatori molto forti. Grazie